in questo numero di pet news magazine il gatto nero porta sfortuna un petti rosso come amico il segreto della lucertola l'erronea credenza popolare che considera i gatti neri come portatore di sfortuna a origini antiche ma non è stato così in varie parti del mondo né così nell'arco della storia di razze di gatti dal manto totalmente nero ne esistono ben 22 in croce a parte i gatti con un gene nero dominante sono spesso ma non sempre assolutamente nere in apparenza ovvero un cucciolo con due genitori in possesso di un gene nero dominante sarà nella maggior parte dei casi totalmente nero se però uno dei due portatore di un gene rosso recessivo allora anche il piccolo potrebbe ereditare tale gene da qui le sfumature color ruggine di alcuni gatti neri una palletta di piume alta non più di 15 centimetri con gli occhi neri come perle ed un maestoso pettorale rosso che spicca sul piumaggio bruno e sul ventre chiaro difficile da vedere nel periodo estivo durante il quale vive nei boschi mentre ai primi freddi autunnali il pettirosso si avvicina a giardini e case in cerca di cibo per attirarlo proprio nel nostro giardino basterà mettergli a disposizione il cibo più gradito farlo adorare regolare ci permetterà di ricevere la sua visita anche tre volte al giorno in natura insettivoro il pettirosso si ciba soprattutto di insetti e delle loro larve lombrichi semi e piccoli molluschi ma integra questa dieta con una grande quantità di frutta come bacche more lamponi mirtilli fragole e ribes il suo menù invernale consta di piccole quantità di grasso semi di miglio e avena briciole di torte panettone biscotti il cibo va posto a terra sul balcone su un davanzale in un posto difficilmente raggiungibile dai gatti e andrebbe offerto dall'autunno fino a primavera inoltrata necessario da cui sospendere questa alimentazione artificiale che potrebbe nuocere ai midiacei il pettirosso così sarà spinto a tornare nel bosco dove riprenderà a procacciarsi il cibo in modo naturale per poi ripresentarsi ai primi freddi controllando se siete disposti a prendervi cura di lui per un altro inverno la coda della lucertola forse non tutti sanno che esiste un punto esatto in cui avviene il distacco c'è infatti una sezione della coda in cui abbondano le cellule staminali precursori indifferenziati delle normali cellule funzionali che compongono un individuo la lucertola è a scopo di difesa in grado di staccare volontariamente il pezzo di coda valle di questo punto lungo un piano di rottura prestabilito tale segmento continuando a muoversi servirebbe a confondere il predatore di turno consentendo la fuga della lucertola nell'arco di alcuni giorni la coda recrescerà con una velocità di regenerazione che è in relazione alla facilità con cui l'autonomia si verifica addirittura può succedere che la coda non si stacchi completamente che una seconda spunti dalla ferita la ricrescita è possibile proprio grazie al fatto che questi animali dispongono di una riserva di cellule molto duttili capaci di moltiplicarsi e dare origine ai tessuti più svariati ricostruendo le strutture perse grazie a tutti Grazie a tutti.